Oltre 400 delegati provenienti da 17 diocesi si ritrovano a Pistoia per la prima settimana sociale dei cattolici della Toscana. Un evento unico nel suo genere e mai svoltosi a livello regionale. Al centro della tre giorni i temi del lavoro, della crisi economica e finanziaria, ma anche della politica e delle riforme istituzionali, delle sfide della società di oggi e del ruolo dei cattolici nella società. Un laicato guardato non tanto come persone che collaborano con la Chiesa per far funzionare la Chiesa, ma come un laicato che esprime il servizio della Chiesa nel mondo, questo sicuramente va recuperato in modo più forte e deciso. Il percorso era iniziato il 17 marzo del 2012 con un grande incontro nella Basilica di San Lorenzo a Firenze e continuato poi in ciascuna diocesi della Toscana. Nella tre giorni Pistoiese si approfondiranno i temi trattati nel corso di questo anno dalle singole delegazioni diocesane per arrivare attraverso cinque gruppi tematici a un documento finale che possa tracciare un'agenda di speranza per la Toscana. L'obiettivo è appunto quello di arrivare alla fine della tre giorni a mettere insieme un'agenda di impegni, di intendimenti, di questione sulle quali il mondo cattolico dà la sua parola alla società civile, istituzionale e politica che farà la sua parte.